Mario Mila aveva questa personalità, questa fabulazione, questo modo per cui era veramente magico a modo suo. Perché era una persona che aveva una forma continuamente mutevo, hai capito? Era come la luce che cambia continuamente, cioè era una cosa miracolosa. Penso che ho una faccia abbastanza mostruosa, non perché sia necessariamente brutta, ma perché ho una fronte molto alta e anche un naso con una certa personalità e dei denti che possono anche sembrare un po' vampireschi e i capelli alti. Questi capelli alti accentuano da un lato la mia regalità formando una sorta di corona sulla destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.